In conferenza stampa aveva parlato di interpretazione del modulo, le è piaciuta oggi come i suoi ragazzi hanno risposto sul campo? L'idea di squadra c'è da due o tre anni, quindi non è quello, quello che hai detto tu, bisogna avere una mentalità diversa, essere un po' più aggressivi, quello che abbiamo fatto almeno per 50 minuti oggi, poi chiaro un po' abbiamo sofferto, comunque loro fisicamente sono una squadra diversa, però non è questione di modulo, l'interpretazione è quello che uno deve mettere un po' l'anima, il cuore che qualche volta ci è mancato. Adesso bisogna mettere la testa già al Bari, mercoledì ci sarà il posticipo e mancheranno Moras e Alpherson. Si dispiace, sicuramente Moras e Alpherson sono giocatori importanti, però credo che sia uno che l'altro, uno ha tanto tempo che rendi fida e mi credo che abbia bisogno anche di recuperare, però abbiamo alternative, credo che abbiamo bisogno di tutti ed è un'occasione importante. Abbiamo giocato, abbiamo cercato di costruire, abbiamo portato a casa solo un gol, credo che avremmo meritato di più nel primo tempo, però sono contento, la squadra, l'atteggiamento, la mentalità è una squadra che sa quello che vuole, poi la partita è lunga, un po' abbiamo sofferto, sapevamo che avevamo anche sofferto la loro fisicità, abbiamo messo dentro tanti giocatori più fisici di noi, però abbiamo portato a casa una vittoria importante. Sono contento perché è una vita che lo prendo un po' in giro, che va sempre, andrà un milione di volte, con le energie che spende andare lì e non riusciva mai a fare gol, proprio anche questa settimana, tante volte, di muoverti così, e quindi eravamo contenti per lui, prima per noi, ma poi molto per lui, anche proprio credo che sia importante il gol, l'ha cercato sempre e l'ha trovato oggi in una partita importante. Mi è stato un taglio, stati bravi, Rafa ha fatto un miracolo, sì, però tutto questo viene dopo, se noi al primo tempo avessimo fatto tre gol credo che la partita era già chiusa, lui è stato Batman e loro sono stati molto fortunati al primo tempo, però insomma due squadre che si sono affrontate per vincere e ha vinto, io credo è la squadra che ha giocato meglio, che ha avuto più voglia di vincere. Sappiamo che noi in ogni campo, gli altri, cercano di fare la partita mia, è per quello che credo che sia proprio come responsabilità bella da prendere, da vivere, a volte ci riusciamo, a volte magari ci frena un po', però questo lo sappiamo e dobbiamo convivere con questo, essere più bravi, fare le cose, quello che dicevo prima, al di là del modulo, di tutte le cose che abbiamo detto, dobbiamo fare le cose fatte bene, se le facciamo fatte bene possono fare la partita della vita, però noi riusciamo a trovare.